salve amici e benvenuti nel mio canale lolotube se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi adesso in questo momento siamo qua che aspettiamo la moglie che è nata dal dentista una giornata stupenda ci sono bellezza di 16 gradi ragazzi vediamo quanti gradi ci sono 19 gradi 19 gradi non posso crederci presto si può andare al mare ah 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.